Musica 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 Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno bella gente. Vogliamo fare una bella commessa? Si, qual è la commessa? La canta una bella canzone. Se non mi piace, faccio pensare a commessa. E allora qual è la commessa? Si vince. E se perde? Si perde. Si perde la chitarra. Non lo puoi pascare lo piattere. E chi è se lo vuole pascare lo piattere? Come? E' come? Non lo conosce. Chi è l'ultimo costeggiatore? E' un grandissimo artista. E' vero, è vero. Come usa la chitarra lui non la sa suonare nessuno. Bravissimo, bravissimo. E' un vero artista. Senti, senti, senti. Buongiorno. 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 Qui, voglio. C'è una canzone con me che fa tutto. Non vedo l'ororo, senti a cantare. Vado, come fai questa canzone con 15. Ehi, questo ti fa la canzone. Ma che stavo fai? Ti faccio la canzone con 15. Mi ha cantato Maruzzi. Poi guardi la chiash pietta stasera. Non no viga ciubere taca iubala. E cine le fulate tu vola. le cantono un piangere giù e a trovare una padrona sincera che ci obtegne sentirte cantare T'ha già voluto bene a te Tu mi hai voluto bene a me ma non ci amiamo più mai potuto distrettamente pensa a me Bravo! E allora devi andare a scommesso? E grazie 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 Grazie